Annunciata la probabile squadra di governo con Nicolas Dupont-Tegnan come premier, la candidata del fronte nazionale alla presidenza francese Marine Le Pen ha spiegato alcuni dei suoi punti per quanto riguarda la sua politica economica. In un'intervista al quotidiano Le Parisien ha annunciato in caso di vittoria domenica prossima, invece dell'euro, di voler proporre una valuta per la spesa corrente per i normali cittadini. La valuta europea dovrebbe valere solo per le grandi compagnie che commerciano con l'estero. Secondo la Le Pen il patriottismo economico si ottiene attraverso un protezionismo contro la concorrenza internazionale sleale e attraverso il recupero di una valuta nazionale per la nostra economia e per aumentare la nostra competitività. Alcuni punti propri del programma di Marine Le Pen sono una precedenza delle leggi francesi su quelle europee e la sovranità del territorio francese oltre all'uscita da Schengen. Secondo una parte cospicua della stampa economica francese tuttavia la politica della Le Pen sarebbe devastante per l'economia transalpina.